Bentornati su MyFootballGersey. Dopo quelle di Brasile-Argentina, oggi facciamo la comparazione della prima maglia della Spagna in versione Player, che è quella che sto indossando, e in versione Fan. Le due versioni si distinguono particolarmente per il tessuto. La versione Player, devo dire, in questo caso ha una differenza enorme. Secondo me è molto più bello quello della versione appunto Player rispetto alla versione Fan, che rimane sempre piacevole ma un po' più povero. Un'altra differenza che mi piace farvi notare sono le stripes sulle spalle. Entrambi sono cucite e questa è una particolarità per la versione Player, ma in quella della versione Player c'è questo bordino giallo che nella versione Fan invece è assente. Come al solito la versione Player, vi ricordo, ha una vestibilità molto più aderente. Questa soprattutto è un L e voglio dire io faccio quasi fatica a starci. Ha una traspirabilità molto superiore alla versione Fan perché è pensata per gli atleti e quindi per dare un maggior comfort durante la partita. Questa che vedete invece è la versione Fan, quella un po' più comoda pensata per i tifosi, quindi non ha dei materiali così tecnici e vi permette di indossare la vostra taglia normale. Ad esempio questa è una M. Spero che il video vi sia piaciuto e spero che abbiate potuto apprezzare le differenze che ci sono tra la versione Player, che è questa, e la versione Fan, che è quella che sta indossando. Come vi dicevo fate molta attenzione alla vestibilità perché questa che indossavo prima è una taglia Large e questa è una taglia Media. Come potrete vedere dal video la taglia Large in questo caso era molto attillata. Ora spero che prima di lasciarci possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima!